Anche la nostra scelta di campo di lanciare l'iniziativa Messina Città della Musica, Messina Città degli Eventi, per la quale già abbiamo individuato 6 milioni di euro circa e che ovviamente potremo lanciare quando le iniziative si potranno riprendere. Nel frattempo bisogna evitare di fare stronzate, nel frattempo bisogna evitare di fare schidicchi inutili e quindi si avvicina anche quella che è la Pasquetta e quanti di noi non speravano quest'anno di fare una Pasquetta diversa. Io per esempio, l'anno scorso c'è stata la polemica che sono andato in qualche luogo nelle baracche per quanto riguarda l'oro di Pasqua e quindi la gente è uscita, beh quest'anno non ci andrò, ci andranno gli operatori di Messina Social City perché faremo anche quest'anno il nostro gesto di solidarietà. Quindi evitare, evitare perché ormai siamo nella fase conclusiva e nessuno di noi può fare, adottare comportamenti per procrastinare questa fase. E allora il tanto contestato, hashtag io rustacasa picazzi mei, sì e sì, diventa indispensabile anche perché organizzare a casa propria lo schidicchio non ha senso. E quindi quella giunta tanto contestata picazzi mei significa che ognuno nel proprio balcone si organizza con la propria famiglia ristretta, non con la propria famiglia fino alla settima generazione, perché poi siamo tutti bravi nel trovare le nostre soluzioni. No, e allora io rusto a casa picazzi mei è riferito ovviamente a quella che è la cerchia dei cosiddetti congiunti, non oltre. Quindi è importante ormai arrivare fino in fondo, noi l'ordinanza comunque la stiamo preparando, anche perché abbiamo visto anche che la tolleranza poi ad un certo punto se ne approfitta e obiettivamente io proprio perché comprendo ormai il disagio che c'è, non è che non lo comprendo. Però guardate, tra il disagio psicologico di stare reclusi dentro, no? Ad aspettare, è quello che in ogni caso è il dramma di chi ha perso un parente, di chi ha perso un amico, di chi ha perso un congiunto, di un imprenditore che ha perso tanti anni di investimenti della propria vita, nella propria attività e che ha casa chiuso da oltre un anno, ormai sull'astico, che probabilmente rischia di non poter riaprire. Ma guardate che è ovvio che se devo fare un bilanciamento, la mia solidarietà e la mia attenzione, la mia azione amministrativa è calibrata esattamente per chi ha vissuto e vive dei drammi. E il disagio tutti lo comprendiamo. Purtroppo poi nella disperazione si fa una graduatoria di quelle che appunto sono i mali minori. E quindi dovete comprendere qual è il senso della mia sfuriata e dell'ordinanza che si farà. Anche perché, ripeto, non si può essere così incoscienti e spregiudicati in una fase così ormai delicata e conclusiva. Si uscirà da questa situazione, ne usciremo assieme, riprenderà la nostra vita. E' ovvio che la capacità di ripresa, di reazione, di resilienza, come viene definita, dipende molto da come si organizzeranno i palazzi municipali. Quindi al di là del profilo sistemico, che obiettivamente riguarda due livelli, quello statale e quello regionale, fermo restando che in ambito europeo la decisione è stata presa, è logico che la partita principale si giocherà in ambito municipale. Ed ecco dove i sindaci dovranno svolgere un ruolo delicato e più che altro devono già in questo momento decidere come rilanciare la propria comunità. Decisione che passa, senza mezzi termini, da una strategia di promozione della propria comunità e anche di iniezione di liquidità, come si dice tecnicamente. E la liquidità da dove deriva? La liquidità deriva da sbloccare cantieri di lavoro ed ecco perché oggi che io sento parlare della proposta addirittura dell'ANAC, di sospendere la coscienza degli apparti, mi viene da ridere da un lato e da piangere dall'altro. Se vi andate a guardare le mie dirette dell'anno scorso, e cioè del periodo marzo-aprile, sono stato io l'anno scorso a dire che bisognava affrontare questa fase, essendo una fase di guerra, con norme derogatorie e quindi che non era assolutamente pensabile di affrontare questa fase con il cosiddetto partito del combinato disposto dell'articolo Vatela Pesca e quindi del cosiddetto codice degli appalti. Beh, ce ne siamo accorti a distanza di un anno. Vedete, questi diventano i problemi seri. Quando qualcuno sostiene delle soluzioni che all'orizzonte sembrano strambalate, e poi ci si arriva lo stesso. Per lo stare ora anche quest'aspetto, io concludo, sono per ora concentrato sull'azione di ripresa. E quindi dico a tutti voi, è l'ultimo sforzo. Non facciamo cazzate. Io quello che ho potuto fare come comune l'ho fatto e lo sto facendo. La Family Card l'abbiamo rinnovata. Mi auguro che anche entro venerdì, sabato, sia sbloccata la seconda fase. Quindi stiamo andando incontro a chi realmente comunque, da questo punto di vista, è in difficoltà. I nostri ristori agli imprenditori che avevano i requisiti li abbiamo dati. C'è ancora qualche stanza, c'è ancora qualche problema, la si sta seguendo, la si sta sbloccando. E anche questo lo voglio dire perché c'è stato pure un attacco inutile, ma veramente il classico attacco schifoso di alcuni consiglieri comunali di 5 stelle, ma ripeto, categoria sotto i capelli niente, dove addirittura ci attaccavano per l'insufficienza del ristorio comunale. Abbiamo dato 3.000 euro a titolare che aveva diritto, quindi più del governo.